Bellissimo Iveco Mobiletta Freeline, motore Iveco potentissimo, 125 cavalli, sono innamorato di questa meccanica. E' potente, affidabile e fa milioni di chilometri, veramente. Attrezzato con veranda, gomme appena sostituite, veicolo veramente, veramente occasionale, poi vi spiego il perché. Gancio di traino, portabiciclette, portapacchi con scaletta, gavone variabile, tirate su il lettino e rimane tanto spazio. Vedete? Stufa combi, tenerla accesa anche mentre viaggiate, guardate. Sospensione aria, così avete una stabilità maggiore. Poi Mobiletta. Andiamo dentro. C'è il pannello solare, lettini grandi per dormirci anche gli adulti, bagno col box doccia, grande, armadio, doppia di night bellissima, guardate che si fa il divanito oppure si tira su e si fa un tavolo da poter mangiare in sei. Cambiate il materassi maggiore per una comodità eccezionale, tutti gli sportelli, blocco cucina con frigo, viesa per avere anche il fresco d'estate, climatizzatore in cabina, radio, cd, stoffa molto molto simpatica e ancora giovanile. Anno 2001, finestre 6, che dire? Poi adesso vi faccio vedere sul sito, vedete il prezzo e rimarrete sballorditi. Camper House di Rimini vi aspetta con questa splendida occasione.